Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 16 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Fiducia nei trigoni d'aria, chiudendo gli occhi sul resto? Per godervi questo magnifico weekend, sia pure sul finire, confidate nel trigono d'aria in gioco tra la luna elegantissima e il vostro astro guida venere, a braccetto con il sole. Occhio puntato sul viaggio, insieme agli altri vantaggi, aria pulita, facce nuove e tanti input, oggi potete trovare anche l'amore, o ritrovarlo se è questo che vuole il vostro cuore. Se lo pensate perché anche lui o lei vi pensa tanto, parola di Mercurio, il pettegolo del sistema solare. Giochi spericolati da parte dei vostri figli da camomillare con diplomazia, non facile neppure dare una mano a un collega che vi chiama per un'emergenza mentre state pedalando nella campagna o scarpinando tra pascoli e rocce. Nella coppia sussiste solo un'attrazione fisica con povertà di sentimenti, lo scopo dello stare insieme è semplicemente fisico. L'amore che potrebbe nascere risente molto di tanta materialità ed è poco aperto ai sentimenti e all'amore vero. I single potrebbero vivere qualche esperienza con persone impegnate e molto interessate solo alla loro fisicità senza nessun riguardo per l'amore. Un amico è messaggero di qualcuno, porta con sé un messaggio importante. Ma ricordate che ambasciator non porta pena. Imparate a contare fino a dieci prima di esprimere giudizi. Il vostro interlocutore non ha avuto una vita facile e va compreso. Giorno eccellente per sistemare questioni noiose. Un pesci di scena. Migliore il tuo look. Comprati un vestito elegante. Bene obbies, giardinaggio, sport. Forma fisica eccezionale. Equivoci. Malintesi. Non essere evasivo riguardo alle tue intenzioni. Se la vostra situazione economica richiede un certo aiuto, non disprezzare l'idea di chiedere un prestito finanziario, solo che per prendere una decisione pondera bene tutte le possibilità e valuta varie proposte. In fondo non c'è fretta. Basta poco per creare magiche atmosfere e armonie nel tuo rapporto amoroso, sei sulla buona strada per risolvere alcuni problemi di fondo, ma il successo richiede un impegno maggiore nel cercare le intese giuste. Oggi la linea che vi separa dal passato è particolarmente sottile, ripercorrerete i momenti belli trascorsi in compagnia di vostri vecchi amori. Per alcuni si prospettano anche dei ritorni. Sarai allegro, simpatico, pieno di entusiasmo. Particolarmente i nati di sabato e lunedì avranno una giornata carica di entusiasmo e faranno buoni progetti. Giorno da dedicare al relax facendo qualche sauna o un bagno rilassante e profumato. Ascolta musica soft. Con un pimpante sole, oggi vostro vero paladino, nel segno dei gemelli, delizierete chi, tra amici, parenti, conoscenti, vorrà starvi accanto, con la vostra carica di fascino e il brillante senso dello humor. Intanto, sarete anche in fase di programmazione di un lungo viaggio che vi regalerà impreviste emozioni. Finalmente un bel lunedì, di quelle da segnare sul calendario con uno smile. A rendervi così ricettivi nei confronti del lato bello e buono della vita la luna nel vostro segno che come insegnavano gli antichi si comporta come un imbutto, facendo convogliare sugli umani tutti i doni delle stelle amichevoli e positive. Nel caso odierno il sole, venere e mercurio, tutti quanti in gemelli, segno d'aria intrigono al vostro, unico fuori dal coro Nettuno, che potrebbe crearvi lievi complicazioni lavorative, comunque risolvibili a distanza, o leggeri malesseri, tamponabili con un analgesico Amore ed Eros. Affettuosi, teneri e anche un po' narcisisti, stupite il partner con il nuovo look che vi rende sexy come la mitica Marilyn o il magico Sam con neri. Se il rapporto era ormai ai ferri corti, consolatevi con una bella gita tenendo la porta del cuore aperta a nuovi amori. La luna è nel vostro segno promettendo un momento di grandi tenerezze e compenetrazione emotiva. E poi un team eccezionale vi sorregge con tutta la sua forza. È composto dalla sensuale Venere e dal passionale Giove. Sappiate fare tesoro di questo doni celesti. Siete nati in ottobre? Ebbene non chiedetela a luna chi non può darvela. Accontentatevi di assaporare in ogni caso momenti affettivi che il cielo vi ha segnato, sono davvero speciali. Se siete nati in settembre, la vostra forza comunicativa vi fa buon gioco nel risolvere una delicata questione emotiva con la vostra dolce metà. Lavoro e denaro? Difficile da un agriturismo immerso nella natura o da un museo di una città d'arte dare disponibilità immediata al vostro capo che vi vorrebbe subito da lui per un'emergenza. Con dispiacere, ma neanche tanto, dovete dirgli che proprio non ce la fate. I liberi professionisti, invece, si mettono in gioco anche oggi, anche in un giorno festivo un angolino del cervello lavora su un nuovo progetto ancora in incubazione. Il sole vi aiuta considerevolmente dal segno dei gemelli. Espansione è la parola chiave di questa giornata e, in riferimento alla vostra attività concreta, se di lunedì lavorate, può contribuire a portare oltre e fuori dai confini abituali, i risultati operativi. Sentite che si sta profilando per voi un momento di costante ascesa professionale. Benessere. Giornata dedicata al restauro estetico. Occuparvi della vostra bellezza e coccolarvi un po', fa bene anche allo spirito. Denaro? Giove amico del vostro segno vi muove verso tutti i godimenti della vita, in particolare quelli gastronomici, esponendovi a qualche rischio di arrotondarvi troppo. È consigliabile una dieta che vi rimetta in forma. Per lei, malinconia per micio o fido che invecchiano, già l'idea di lasciarli per il weekend vi manda in paranoia. La soluzione c'è, cambiate formula e portateli con voi. Per lui, voglia di cambiamenti radicali, pronti per un colpo di testa, come inviare il curriculum a Dubai o svendere la cassetta al lago per un camper super accessoriato. La chiamano sindrome del giramondo. Colore delle emozioni, rosa tea. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 8, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie a tutti.